Con il presidente della Proloco parliamo di questo importante appuntamento della Notte Azzurra di Tottea. Tanti gli eventi in queste due giorni. Sì, quest'anno abbiamo dato un risalto maggiore, visto che ricorre il decennale della nostra manifestazione. Si inizia il 17 con un laboratorio per bambini di pupazze, sempre attinenti a quello che è la musica popolare abruzzese. Perché poi alle ore 15 ci sarà l'inizio del Festival del Saltarello e così si abbineranno l'un con l'altro. La sera si prosegue con il Festival del Saltarello, dimenticavo alle ore 16 c'è Pompieropoli che l'abbiamo inserita all'interno di questo evento. Gli abbiamo dato una cornice per la nostra manifestazione, un evento che ringrazio il comandante dei Vigili del Fuoco di Teramo e l'amministrazione del Comune di Cronia Letto che hanno voluto così abbinarla alla nostra manifestazione. Il 18 si inizia lo stage di musica internazionale per poi farli cimentare la sera con i gruppi di folclore. Alle ore 15 inizierà la seconda tappa del Festival del Saltarello e alle ore 22 a tutti aspettano il Notartista, il concerto di Roberto Vecchione, una musica d'autore che senz'altro sarà di nostro apprezzamento, non solo nostro ma anche di tutta la vallata e la provincia di Teramo che invito tutti a essere presenti il 18. Alle ore 24 saranno i fuochi per poi proseguire con l'orchestra del Saltarello e poi fino alla mattina con musica per giovani e quant'altro. È un percorso ludico formativo su quello che possa essere l'attività che svolgiamo quotidianamente quindi ci saranno dei giochi adatti ai bimbi dove verranno affrontate alcune difficoltà ad esempio lo spegnimento di un principio d'incendio, la discesa di una pertica quindi si affronterà la sensazione del vuoto, una parete d'arrampicata una sorta di sfida con l'equilibrio dove si andrà ad attraversare una trave, un ponte tibetano quindi i bimbi verranno messi un attimino alla prova su quello che possa essere quello che facciamo noi in sintesi per un futuro. Quindi i bimbi rispondono sempre in maniera molto positiva a questa cosa perché vuoi che un po' amano il lavoro nostro e quindi di questo ne siamo molto orgogliosi.